Buongiorno a tutti, sono il dottor Campagnari, medicina interna specializzando. Ringrazio il dottor Lugoboni per avermi dato la possibilità di presentare questa relazione e sono un po' agitato perché è la prima volta che presento una relazione ad un convegno, quindi mi scuso in anticipo eventualmente. Allora, smetto quando voglio, nasce dall'esperienza presso l'ambulatorio del fumo di medicina delle dipendenze dove spesso mi capitava che i pazienti o qualche paziente mi chiedesse o mi dicesse, anzi conosco un tipo, un parente, un amico che da un giorno all'altro ha smesso di fumare, io non ce la faccio come può essere. Allora il concetto di smettere quando si vuole nasce dall'idea distorta che il fumo è considerato un vizio o un'abitudine e questo ha radice principalmente nella storia del fumo dove nell'ultimo secolo c'è stato un processo di normalizzazione e di promozione di quello che è il fumo di sigaretta che ha portato a questo concetto appunto di vizio abitudine. Vediamo nel 1930 la pubblicità delle Lucky Strike dove c'è un medico che consiglia di fumare le Lucky Strike perché ritenute meno irritanti. Nel 1960 Ronald Reagan che firma pacchetti di Chesterfield come regalo per Natale e poi la pubblicità appunto delle marche di sigarette in ambito sportivo fino a poco tempo fa. In realtà il tabagismo è una patologia riconosciuta sia dagli CD10 che dal DSM5 con una patologia da dipendenza in cui la nicotina che è una sostanza neuropsicotropa scatena delle importanti alterazioni neurochimiche, modifica la plasticità neuronale ed induce delle variazioni comportamentali. L'OMS codifica questa malattia con un codice ben preciso che è appunto l'F17. Questo concetto però deve arrivare anche in ambito sanitario in maniera importante perché in Italia fuma un medico su 4, quasi il 25% dei medici, così come potete vedere anche la percentuale degli studenti di scienze infermieristiche e degli studenti di medicina. Quindi possiamo dire che in ambito medico non ci sia nulla come il fumo di sigaretta che unisce un così forte concentrato di prevalenza, perché un sacco di persone fumano, letalità e di negligenza, nonostante l'offerta terapeutica disponibile che poi vedremo. A livello epidemiologico nel mondo ci sono 1,14 miliardi di fumatori, in Italia 11,5, quindi quasi il 25% della popolazione, di cui il 28% sono uomini, il 16,5% sono donne. Nel grafico sulla vostra destra potete vedere che dal 1957 al 2019 la prevalenza di fumatori maschi e femmine è cambiata negli anni. Infatti potete vedere che c'è stata un'importante deflessione di quello che è il numero di fumatori maschi e un importante aumento invece di quello che è il numero della prevalenza femminile. Questo è legato anche proprio ad un modello fumo-femmina che è cambiato negli anni. Fino al 1940 considerate che la femmina che fumava aveva un'accezione assolutamente negativa, comunque legata all'ambito della prostituzione. Cosa successe? Che il modello cambiò anche grazie a importanti furbi interventi delle compagnie del tabacco, dove per esempio durante alcuni movimenti come quello delle suffragette le compagnie del tabacco pagarono delle donne per fumare in pubblico e così crearono un nuovo modello femmina-fumo e comprarono anche quella fetta di mercato che comunque fu importante per loro. In realtà, dati del Ministero della Salute, 93.000 morti l'anno per patologie fumo-correlate. Nell'ultimo secolo sono 100 milioni i morti per patologie fumo-correlate. Il 48% sono le patologie di natura oncologica, neoplastica. Attenzione che non si tratta solo dell'apparato respiratorio ma anche di tutto il tratto gastrointestinale e sempre il sistema genito-urinario e sempre per parlare della differenza di genere una femmina fumatrice ha un rischio molto maggiore di incappare nel carcinoma della mammella o della cervice uterina rispetto a una non fumatrice. Il 25% patologie cardiovascolari, un fumatore ha 5 volte più possibilità di incorrere in un'ima, infarto del mio cardio acuto. 17% patologie respiratorie, poi altro, infezioni, una maggior predisposizione alle infezioni, patologie neurodegenerative, quindi il fumo di sigaretta va colpire in toto, questo è il concetto. Il fumo però è la principale causa anche di morte evitabile nei paesi sviluppati. E allora sorge spontanea la domanda del perché i medici non trattano i loro pazienti fumatori. Allora, da una parte perché ritengono, o almeno la maggior parte, non dobbiamo generalizzare così tanto, però da una parte perché ritengono di non avere le skills e le competenze adeguate, dall'altra si rifà tanto al concetto della distorsione di quello che è il tabagismo, perché ritengono di non disporre di tempo sufficiente per parlarne, cioè è imbarazzante parlare, chiedere a un paziente perché fuma, non voglio essere troppo invadente. E questo è uno dei problemi principali. In realtà il primo contatto terapeutico è il semplice cancelling, che può essere effettuato non solo dal medico, ma anche dagli infermieri, dagli os, dagli odontoiatri, insomma, da qualsiasi figura che si occupa del benessere psicofisico del paziente. Perché col semplice cancelling, chiedere fumi, si può aprire un'importante finestra di dialogo in cui, anche se non ho le competenze per trattare il paziente fumatore, se non altro posso dare delle indicazioni, sulla presenza di centri antifumo, per esempio, sulla presenza di una linea verde, di un telefono verde dell'Istituto Superiore della Sanità, che può dare delle informazioni importanti. Ma anche siamo nel mondo dei social ad oggi per guidare il paziente verso quelle che sono informazioni utili o meno utili nei confronti della dipendenza da tabacco. Se il paziente riferisce invece di star provare, cioè che sta smettendo di fumare, motiviamo, lo rinforziamo, la sua scelta, perché è importante. E allo stesso modo possiamo fornire delle importanti informazioni. Il trattamento deve essere integrato. Cosa vuol dire? Che da una parte deve controllare quella che è l'astinenza. Se un paziente smette di fumare, dall'oggi al domani entrano in gioco tutta una serie di sintomi astinenziali che sono caratterizzati principalmente da ansia, agitazione, nervosismo, appetito, non è che si ingrassa perché si smette di fumare, si ingrassa perché probabilmente l'astinenza non è ben controllata, si tende a mangiare, tendenzialmente anche più dolci, perché rinforzano di più, e di conseguenza tutta la sfera astinenziale deve essere trattata farmacologicamente o comunque controllata. però deve essere integrato perché c'è tutta una componente psicocomportamentale che bisogna valutare, altrimenti c'è il rischio di incappare in un insuccesso terapeutico. Bisogna capire la valenza emotiva, per esempio, che ha la sigaretta per il paziente. Bisogna capire in quali situazioni, ambiti, ambienti. Ieri il dottor Zamboni parlava della cure activity e della context reactivity. È fondamentale capire in quali situazioni il paziente rischia maggiormente di fumare. E all'interno di questo cito anche la gestualità che dopo vi spiegherò meglio. Nel momento in cui iniziamo a trattare un paziente fumatore dobbiamo avere un'idea di quello che è il suo livello di dipendenza fisica dalla nicotina. E possiamo farlo facilmente con questo test. Il test di Fagerstrom, un test a sei item, in cui ad ogni risposta si ottiene un punteggio. Più è alto il punteggio, più è il livello di dipendenza fisica dalla nicotina. Piccola parentesi, il numero di sigarette fumate giornalmente ha una valenza sicura, però è più importante capire quanto un paziente, in quanto tempo da quando si sveglia, un paziente fuma la prima sigaretta. Perché un forte fumatore, se non fuma di notte, i livelli plasmatici di nicotina scendono, va in astinenza, e appena si sveglia senterà il bisogno di fumare. Parlando di trattamento, allora, il più antico, il più conosciuto, è la terapia di sostituzione nicotinica, le NRT. Sono device, che dopo vediamo, che hanno la funzione di fornire nicotina al corpo in via alternativa rispetto a quella fumata, con l'obiettivo di controllare il craving, cioè il bisogno di assumere nicotina, in questo caso una sostanza che è la nicotina, e l'astinenza, ma riduce anche gli effetti gratificanti del fumo. Se una persona ci fuma sopra il cerotto di nicotina, avrà un effetto, un piacere minore, diciamo. L'obiettivo quindi è, rimpiazziamo la nicotina con questi strumenti, raggiungiamo un equilibrio psicofisico e neurochimico, per poi scendere progressivamente. Come facciamo a scegliere? Come potete vedere, ci sono cerotti, gomme, nailer, pastiglie, spray, nasali, orali. Allora, la differenza sta fondamentalmente nell'assorbimento. Il cerotto, che è il più famoso, ha un assorbimento lento, cioè dà nicotina in maniera lenta, però la dà in maniera tale da stabilizzare i livelli di nicotina giornalieri del paziente. Quindi, il paziente con un cerotto può essere ben coperto. Cosa può succedere? Che in determinate situazioni, magari di stress, venga voglia di fumare, ci sia la necessità per il fumatore di avere un picco di nicotina immediato, tipico della sigaretta, che il cerotto non può controllare. Ecco allora che possiamo utilizzare gomme o spray, per esempio, che hanno un assorbimento più veloce, intermedio, appunto, rapido. Bisogna anche istruire il paziente su come utilizzarli, perché, per esempio, le gomme non devono essere masticate come delle chewing gum normali, altrimenti la nicotina viene assorbita a livello gastrointestinale, ci mette di più ad arrivare a livello del sangue e, di conseguenza, perde la sua funzione. Nel caso della gomma, è importante spiegare al paziente che deve essere masticata e tenuta a livello del vestibolo, tra il labbro e i denti. Lo spray, per esempio, orale, può essere d'aiuto in quei fumatori che dicono Sì, sono controllato, ma mi manca la botta in gola in determinate situazioni. Ecco, uno spray orale può essere utile da associare al cerotto. Veniamo ora alla citisina, invece. La citisina non c'entra niente con quella che è la sostituzione nicotinica, perché è un farm che innanzitutto ha alcaloide, ad estrazione vegetale, che agisce andando ad agire sui recettori della nicotina, in particolar modo gli alfa 4 beta 2, che sono i principali recettori implicati, e li lega con un'affinità superiore di 7 volte alla nicotina. È un ottimo farmaco anti-fumo, anti-astinenziale, anti-craving. Potete vedere sulla vostra destra l'immagine di un soldato della seconda guerra mondiale che fuma, perché è stato riportato che durante la seconda guerra mondiale i soldati russi fumarono le foglie di citisina ottenendone beneficio. Chiaramente non si rendevano conto che si stavano trattando con la citisina, però questo ci dà un'idea di quanto la citisina riesca a coprire l'astinenza o il bisogno di assumere nicotina. Non è presente in Italia sotto forma di farmaco commercializzato, a differenza di Polonia, Bulgaria, o comunque i paesi dell'est, dove è presente sotto il nome di Tabex da oltre 40 anni. Quindi è un farmaco, citisina, che viene utilizzato nei paesi dell'est per smettere di fumare da oltre 40 anni. Ha pochissime interazioni farmacologiche, principalmente con farmaci, per esempio per trattare tubercolosi, rifampicina o quant'altro. Per il resto è un farmaco che è preciso per i recettori alfa 4, beta 2 della nicotina e non interagisce con i farmaci. E pochissimi effetti collaterali. Come trattiamo i nostri pazienti con citisina? Principalmente con due schemi. Allora, questo che vedete si chiama schema di induzione proposto dal dottor Tinghino. È uno schema in cui nei primi giorni, dal primo al quinto giorno, come vedete, somministriamo un numero di capsule via via maggiore durante i quali il paziente può fumare o provare a ridurre il numero di sigarette. Si arriva all'ottavo o quattordicesimo giorno in cui si assume il massimo numero di compresse, sei, durante questa finestra di tempo si cerca di far smettere il paziente di fumare. Lui si consiglia, butta via le sigarette, prova a star senza sigarette e ad andare avanti tra virgolette solo con il farmaco. È fondamentale spiegarlo bene, prendere una decisione col paziente, dire questo giorno proviamo a smettere e le butti via. Ci stabilizziamo, come potete vedere, per circa due settimane sulla posologia più elevata, quindi sei pastille, per poi scendere progressivamente. Questo, almeno a mio avviso, per l'esperienza fatta all'ambulatorio del fumo, può essere molto utile per i pazienti ambulatoriali, cioè quelli che giungono in ambulatorio e dicono è il momento di smetterci, voglio provare. Per i pazienti invece quelli ricoverati, per esempio in un setting ospedaliero, ecco allora che potrebbe essere più utile è uno schema di questo tipo, West, in cui come potete vedere già nei primi tre giorni, la posologia è massima, cioè non si parte dal basso e si va al massimo e poi si scende, si parte subito con sei capsule e poi si scende. Qual è il razionale? Il razionale è che un paziente che viene ricoverato in ospedale tendenzialmente non può fumare, di conseguenza va in astinenza molto rapidamente, quindi bisogna controllare subito l'astinenza. a questo proposito vi cito uno studio attivo attualmente presso l'azienda ospedaliera di Verona, gestita dalla medicina delle dipendenze, dalla farmacia, dalla farmacologia di Verona, in cui stiamo studiando la sicurezza e l'efficacia di citisina nei pazienti ricoverati, chiaramente tabagisti. vi riporto dei risultati parziali, stiamo parlando di 134 pazienti, però sono interessanti perché i risultati ci dicono che il 77% in termini di sicurezza non ha riportato nessuna reazione, il 23% invece ha riportato delle reazioni che non sono gravi, si parla principalmente di nausea o disturbi del sonno. Piccola parentesi, quando si tratta di appunto trattare farmacologicamente un paziente fumatore e riporta dei disturbi del sonno, lì è utile indagare se effettivamente si tratta di un disturbo da farmaco o da una stinenza non ben controllata, quindi bisogna sempre considerare bene questi aspetti. In termini di efficacia invece a tre mesi il 71% dei 134 pazienti non fumava e a sei mesi il 63%, quindi sono dati molto consistenti. Quando trattiamo appunto il paziente fumatore ritorno un po' alla slide iniziale una delle prime del trattamento integrato non dimentichiamoci la gestualità che rientra nel vagliare e indagare tutto quello che è l'aspetto psicocomportamentale. Un paziente può giungere in ambulatorio e dire sì io non sento il bisogno di fumare ma manca qualcosa. bisogna cercare di aiutarlo e supportarlo e dare anche degli strumenti perché si rischia di anche in questo caso incappare in un successo terapeutico. Ci sono gli strumenti per la gestualità a più livelli diciamo di gestualità possiamo vedere delle pipette di plastica in cui si mima il gesto di fumare sigarette elettroniche senza nicotina e sigarette finte non vi cito il nome anche se c'è scritto che non hanno nicotina. È importante avere l'idea che questo trattamento è transitorio è chiaro che una persona dice sì ma gli dai da fumare a uno che vuole smettere di fumare sì è vero però stiamo cercando di fare un intervento terapeutico in cui il paziente va piano piano a rompere quelli che sono i meccanismi di connessione tra il gesto e l'assunzione di nicotina. Quindi fin tanto che io non gli do nicotina ma uno strumento che gli permette di sopperire al gesto sarà un trattamento transitorio. Sì transitorio. Dicevo il concetto è un po' quello del ciuccio per i bambini per farla semplice come al bambino lo diamo in bocca al ciuccio nel momento in cui lo stacchiamo dal seno materno e il ciuccio cade a un certo punto allo stesso modo il fumatore fa così con le pipe o con le nirdosh o con la sigaretta elettronica. Vado verso la fine vi cito altri due farmaci utilizzati in ambito fumo bupropione farmaco nato come antidepressivo in commercio con il nome di Zibam però a fine appunto di terapia antifumo diciamo che Zibam e Welbutrin si differenziano per il rilascio stiamo parlando di un rilascio esteso per il Welbutrin con funzione antidepressiva e rilascio lento per lo Zibam è un ottimo farmaco che agisce in questo caso sulla ricaptazione di dopamina e noradrenalina e antagonizza gli effetti della nicotina. Vareniclina funziona come l'acitisina perché è una molecola che deriva dall'acitisina Vareniclina è stata messa in commercio dalla Pfizer sotto il nome di Champix come farmaco antifumo attualmente però non è presente in produzione o in commercio per diciamo delle problematiche legate alla produzione quindi attualmente Champix non è disponibile però ribadisco è una molecola che deriva dalla citisina la madre di Vareniclina è citisina. Vi ringrazio per la vostra attenzione questa è l'equipe di medicina delle dipendenze di cui ho fatto parte per un anno che mi sono permesso anche di lasciare i ricapiti mail e telefono nel caso aveste bisogno grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione